Audio Junk Chiamiamolo Fattore X È il valore aggiunto proposto da Opel per la sua rinnovata gamma SUM A cominciare da Opel Mokka X ed è tutto un altro andare X come la sua sofisticata trazione integrale a controllo elettronico ora disponibile sulle versioni top X come le sue notevoli possibilità di infotainment per una connettività al 100% grazie ai sistemi Apple CarPlay, Android Auto e Navi 900 X come il grande relax di bordo assicurato dalla sua innovativa plancia integrata con schermo da 8 pollici e dai sedili certificati AGR per una corretta ergonomia posturale una chicca finora riservata ai marchi premi per il resto ritroviamo le caratteristiche che hanno decretato il successo dell'Opel Mokka X fin dal momento del lancio una linea moderna e molto personale impreziosita dai sofisticati fari a led adattativi che integrano le luci diurne un'eccellente abitabilità in rapporto alle sue dimensioni compatte e un'ottima guidabilità di impronta tipicamente tedesche per un feeling di guida più solido e diretto Opel Mokka X quel qualcosa in più che può fare la differenza